Callegari, a Staletti, si sta costruendo un'antenna e la salute viene trascurata per il progresso. A Staletti, piccolo centro dell'Interland catanzarese, in questi giorni si sta costruendo un'antenna 5G alta 30 metri, dove verranno installati dei ripetitori telefonici. Da premettere che a Staletti negli anni passati sono state installate altre antenne e dalla loro realizzazione si sono verificati diversi casi di tumori, che hanno portato ad una percentuale di decessi molto alta per un piccolo paese. Secondo alcuni studi scientifici, l'esposizione ai campi elettromagnetici generati da questi dispositivi comporta effetti nocivi per la salute dei cittadini, cancro, riduzione della fertilità, perdita della memoria e cambiamento del comportamento e nello sviluppo dei bambini. La salute dei cittadini viene così trascurata in nome del progresso, ma soprattutto al fine di interessi privati. La realizzazione di questa antenna ha generato molta preoccupazione tra la popolazione del paese, tanto da aver creato un comitato spontaneo di raccolta firme per dire no alla sua installazione.